Ciao amici, tutti conosciamo le proprietà benefiche del limone, vero? Noi beviamo acqua e limoni ogni giorno, bravi! Se non avete visto il video, ecco il link, andatelo a vedere. Ma non sono solo la polpa e il succo di limone ad avere benefici straordinari, anche la buccia ha incredibili proprietà per la nostra salute. Oggi vediamo insieme come usare la buccia di limone e non la butterete mai più via dopo aver visto questo video. Se vi piace l'idea mettete subito un mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Antiossidanti. La buccia del limone è piena di antiossidanti, in particolare vitamina C, in quantità molto maggiore che nella polpa, da 5 a 10 volte. 2. Detox. Il potere detox della buccia di limone aiuta a combattere le tossine e i radicali liberi. 3. Digestivo. Con la buccia di limone si può fare un rimedio della nonna potentissimo, si chiama canarino per il suo colore giallo canarino appunto. Si prepara bollendo in acqua le bucce di limone private della parte bianca per 5-10 minuti, poi si lascia in infusione ancora per 5 minuti mentre il canarino si raffredda un po'. Per vedere la ricetta completa e sapere come usarlo guardate questo video. Vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona? Partecipa agli eventi, vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta Italia. Prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere. 4. Tocco gourmet. In cucina le scorzette sono un tocco davvero gourmet. Di arancia o limone si possono aggiungere a ricette dolci e salate per un risultato sfizioso. La cosa importante è grattugiare solo la parte gialla della buccia perché quella bianca con la cottura diventa amara. Fantastico ma mi devo mangiare la buccia? Ecco il trucco! Potete tenere un limone in freezer, poi al bisogno grattugiare la buccia e aggiungere ai vostri piatti preferiti, anche così a crudo. È perfetta su insalate, secondi piatti, contorni di verdure, ma anche su certi primi e ovviamente sul pesce per chi lo mangia. Per conoscere le proprietà salutari di tanti altri cibi basta iscriversi al canale, è facile con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia bene e vivi meglio! Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente! Ciao!